Partiti! All'inizio della curva è in vantaggio Luce di Sardegna davanti a The Best of Paloma, Queen of Nas, Cala Luna, Sands Ryu, Mamma Maremma, Edos Force, Golden Editor poco prima dell'ingresso addirittura Luce di Sardegna e Mamma Maremma conducono davanti a The Best of Paloma e Queen of Nas, i cavalli entrano in dirittura con The Best of Paloma che si avvantaggia lungo lo steccato davanti a Sands Ryu, a Orleans, Cala Luna, Sciuetta e in leggero vantaggio The Best of Paloma davanti a Cala Luna, a Sands Ryu, Sciuetta, per linea interna e Orleans e a centropista Edos Force passa Sciuetta davanti a Sands Ryu, a Orleans ed Edos Force passa a Sands Ryu davanti a Edos Force, Sciuetta, Orleans e Cala Luna Sands Ryu, a Sands Ryu, a Luce di Sardegna, quinto è Luce di Sardegna o Cala Luna, però è Luce di Sardegna Grazie. Grazie.